scopri il fascino di vivere su una colina a terrossa di ronca qual è il posto giusto per crescere una bella famiglia forse lo è un appartamento che comincia strastretto magari in mezzo a tante persone dove devi fare silenzio devi fare la lavatrice sono i determinati orari del giorno altrimenti si innescano litigi o dispetti oppure di una casa indipendente se questa la casa che stai cercando ecco la soluzione per te immagina di svegliarti ogni mattina con una vista mozzafiato sulle colline di ronca questa casa indipendente situata in una posizione privilegiata offre non solo un panorama impagabile ma anche uno spazio esterno ampio e versatile circondata da un lussureggiante giardino questa casa del 1990 si estende su 300 metri la casa si trova in un ambiente tranquillo e pulito perfetto per andare a correre o fare passeggiate in mezzo al verde del val d'alpone benvenuti signori ora vi farò vedere una casa per grandi e unite famiglie come vedete appena entrati abbiamo questo salone di accoglienza e proseguendo sempre nella zona giorno abbiamo un'altra sala con cucina effetto open space con un terrazzino che dà la visuale sulla nostra val d'alpone proseguendo per la zona notte attraversiamo il corridoio e subito qui comodo a sinistra abbiamo la lavanderia e a destra bagno con doccia e vasca andando avanti troviamo subito sulla destra una camera matrimoniale e poi una seconda camera matrimoniale infine come vi ho ripetuto prima per le grandi famiglie una terza camera matrimoniale e guardate signori che grandezza quasi una balera dove potrete ristrutturare a vostro piacimento questa parte e anche usufrirne con una bellissima taverna con cammino a legna per fare grigliate e feste con la vostra famiglia hai un camper? nessun problema accanto alla casa troverai un cappannone ideale per usarlo come ulteriore garage vivi il sogno di vivere in una grande casa come vedi è una casa che ha tutti i comfort necessari per crescere una bella famiglia i lavori necessari per migliorarla o aggiornarla non sono molti dunque ti consiglio di non perdere questa occasione di far tua l'unica casa sulla collina nel val d'alpone da Marco Marchetto Immobiliare ci vediamo a rogito ciao